Claudio, come e quando nasce la storia di Fanfarillo? La storia di Fanfarillo nasce con il nonno nell'immediato dopoguerra, qui ad Alatri. Siamo in provincia di Frosinone e avevamo bisogno, come tutti i paesi colpiti dalla guerra, di ricostruzione. Quindi il nonno che si adoperava molto nella meccanica, nella fagnameria, aveva una piccola bottega e la gente bisognosa veniva qui a farsi riparare gli oggetti più vari, dal piatto alla sedia e quant'altro. Poi però c'è a un certo punto un passaggio e arrivano i fucili. Sì, sì, perché noi tra l'altro siamo stati predestinati, perché c'è un aneddoto carino, i tedeschi occuparono la casa di mio nonno e guarda caso fu trasformata in armeria, in armeria militare, quindi un deposito militare di armi, quindi un destino segnato. Da lì è cominciata l'esigenza di riparare, oltre al piatto e alla sedia, anche il fucile per uso venatorio. E quindi il nonno ha cominciato le prime riparazioni semplici, dopodiché c'è stata la necessità di avere qualcosa di più importante, qualche riparazione più importante e lui si è appoggiato a Gardone e Valtrompio. Quindi lui andava a Gardone a recuperare i pezzi che gli servivano per riparare le armi. Da lì, poi subentrando mio padre, adolescente, con la voglia di fare qualcosa di più della semplice riparazione, si è cominciato a fare qualche prima rudimentale arma, totalmente artigianale, con mezzi di fortuna. Quando è stato costruito il primo fucile? Nei primissimi anni 70-70-71 è nato il primo fucile totalmente prodotto ad Aratri. Quindi bascula boss. Bascula di tipo boss, con chiusure di tipo boss. Con chiusure di tipo boss. E poi questo fucile aveva altri particolari brevetti? Certo, c'era un brevetto, un brevetto esistente, ancora esistente, che è la batteria estraibile. Nasce dalla competizione con un amico bresciano, di papà, il quale disse che le batterie estraibili all'epoca erano soltanto di dominio di Perazzi e Gamba e non c'erano altre. Allora mio padre, sfottendolo, disse che lui ne avrebbe portate altre due o tre. E così fu, e così fu. Allora Giacomo, volevo farti vedere il particolare del brevetto del 72. La meccanica è questa qui, l'innovazione che c'è stata è stata quella di avere la tacca di sgancio sotto la testa del cane e anziché in basso vicino alla noce, come in questo caso, su questa batteria qui. Quindi questo ha fatto sì di apportare una notevole miglioria per quanto riguarda lo scatto. Cioè a parità di uno scatto di un chilo e mezzo si avverte una dolcezza maggiore, quindi una sensibilità estrema. Dopodiché c'è stata una piccola evoluzione che ha perso un pezzo, è diventata un oggetto un po' più bello esteticamente. Di lì ancora c'è stata una terza evoluzione che è questa qui, che si è modernizzata un po', ha avuto una molla del grilletto elicoidale, non più con un filo, che era questo, e il bilanciere non ha più, ha perso l'incernieramento superiore a favore di uno inferiore. Non contento, ha prodotto ancora un'altra batteria, ed è questa qui. Questa è nella sua forma, diciamo, più evoluta, quindi addirittura con la sicura automatica per i fucili del drive e selettore. Questo è un po' un fiore all'occhiello, anche se siamo tornati indietro come concetto, quindi lo sgancio in basso, però è un oggetto bellissimo e funzionale. Qual è il futuro di Fanferillo? Sto producendo un'arma particolare per onorare tutto il lavoro fatto da nonno e da papà, quindi c'è dentro tutta l'esperienza di tre generazioni di armaioli. È un sovrapposto con meccanica di tipo Holland, una meccanica innovativa. Si cambia una molla in 4-5 minuti di tempo e non si ha bisogno dell'armaiolo, quindi potrebbe essere uno dei pochi Holland che si potrebbe usare tranquillamente in pedala.